Momenti magici nel mio lavoro ce ne sono tantissimi, sicuramente quando riesco a portare il bambino in un mondo magico. Sono la dottoressa Tiramisu, lavoro per la Fondazione Teodora in Ticino. Quando entro nella camera penso al bambino, ascolto quello che sento intorno, cerco di collegarmi anche con i genitori, con quello che sta succedendo e non penso a niente, osservo e mi lascio trasportare nel mondo del bambino. Proprio ultimamente ho avuto una bellissima esperienza con una mamma, ho accompagnato il suo bambino in sala operatoria e questo lavoro prima di distrarlo, di accompagnarlo in un altro mondo, di non farlo preoccupare di quello che è la sua malattia, l'ha talmente colpita che alla fine mi ha abbracciato fortissimo ed è stato veramente un momento molto emozionante. Sono felice quando riesco a distrarre il bambino in modo che non si accorga che gli vengano fatte delle punture. È successo proprio ultimamente che avevo un bambino terrorizzato e siamo riusciti veramente a distrarlo e a un certo punto ho detto, ma quando mi fate le punture? Ed era già finito tutto e lì ero felice. Ecco. Ed era già finito tutto e lì ero felice. Ed era già finito tutto e lì ero felice. Ed era già finito tutto e lì ero felice. Ed era già finito tutto e lì ero felice.